La raccolta poetica ai canti di Giacomo Leopardi ha avuto tre edizioni, l'edizione fiorentina del 1831, quella napoletana del 1835 e un'edizione postuma del 1845 curata da Antonio Ragneri e pubblicata dall'editore Lemonnier. Dalle date di edizione e di pubblicazione possiamo notare come l'idea di un libro che raccogliesse in modo unitario tutta la produzione lirica di Leopardi prenda corpo solo a ridosso degli anni 30, a testimonianza del fatto che quella del poeta re canatese è una poetica in continuo movimento che si riflette peraltro nella struttura e nell'ordinamento del libro. L'opera che raccoglie 41 componimenti può essere suddivisa al suo interno più o meno in sei sezioni, tre tuttavia sono i blocchi più importanti. Il primo è rappresentato per lo più dalle cosiddette canzoni civili del 1818-1821 come all'Italia sopra il monumento di Dante che si preparava in Firenze alle quali si affiancano componimenti come l'ultimo canto di Saffo e Bruto Minore incentrati sul tema dell'infelicità e delle illusioni, del caro Imaginar reso impossibile dall'arido vero. Il primo blocco risale agli anni tra il 1818 e il 1822, il secondo è composto dagli idilli, detti convenzionalmente piccoli idilli, in tutto cinque tra i quali l'infinito e la sera del di di festa. Le differenze rispetto alle canzoni sono evidenti sia dal punto di vista tematico che formale, ai temi storici e politici subentrano argomenti privati ed esistenziali invece del linguaggio aulico solenne denso di latinismi e classicheggiante caratterizzato da una sintassi molto complessa. Ci troviamo di fronte a una sintassi piana, distesa, quasi lineare e a un tono relativamente più colloquiale. Anche questo blocco risale alla prima fase della produzione lirica di Leopardi. Il terzo è costituito dai canti pisano-ricanatesi, un titolo voluto dallo stesso Leopardi e che si deve a una ragione prettamente biografica. Si tratta di poesie composte tra il 1828 e il 1830, cioè tra la fine del soggiorno a Pisa e il ritorno a Recanati. Pur richiamandosi agli idilli giovanili, i canti di questa sezione, tra i quali il celebre a Silvia, presentano una ricanati trasfigurata nel passato che viene recuperato attraverso la memoria. Ciò può avvenire perché l'io poetico conosce una maturazione, osserva quindi cose e vicende non dalla fanciullezza ma da un'età adulta che giudica e rimpiange la fanciullezza. L'io poetico racconta sempre avventure del proprio animo, cioè esperienze personali, ma esse, a differenza di quanto avveniva negli idilli, diventano esperienze in cui egli si fa portavoce di un destino comune, del destino di sofferenza che lo accomuna a tutti gli altri uomini. Il culmine di questo processo di universalizzazione si manifesta nel canto notturno di un pastore errante in cui la voce narrante non è più quella dell'io poetico ma di un pastore cui è affidato il compito di portavoce delle domande di un'intera umanità infelice.